Dal 15 gennaio al 12 febbraio si terrà la quattordicesima edizione della rassegna Incontriamoci a Teatro, organizzata dal Comitato di Rovigo della Federazione Italiana Teatro Amatori. Cinque domeniche pomeriggio alle 16.30 con le nostre compagnie teatrali amatoriali, Polesane e non solo, con altrettante commedie, cinque commedie per passare dei pomeriggi divertenti ed emozionanti insieme. Vi aspettiamo. Si parte il 15 gennaio con il nuovissimo lavoro, prima assoluta, della compagnia Teatro Insieme di Sarzano e la commedia Bella da Morire. Vi aspettiamo.